buonasera amici di calcio spagnolo siamo qui di nuovo per il nostro broadcast settimanale io sono ieri gobini già mi conoscete e salutiamo lucasisto che è già stato l'ospite un paio di volte da noi in precedenza buonasera a tutti e niente partiamo partiamo subito con con diciamo con l'inizio della liga la scorsa settimana è ripartita la liga c'è stata disputata la prima giornata vi sono stati diciamo quasi nessun risultato a sorpresa la liga è ripartita con la vittoria del valencia in casa contro il ghetafe una vittoria targata dalas che è stato l'allenatore ghetafe per quattro anni e adesso si è ritrovato a sfidarlo nella prima occasione questa vittoria un gol all'inizio di solea sul calcio di rigore buon inizio per il valencia soprattutto un inizio abbastanza compatto perché la spada mancava di compattezza nelle stagioni precedenti e diciamo semmai invertito essersi invertita la tendenza poi ci sono stati altri risultati ma io ho capito sono uno cari si levante una un'altra poi abbiamo la vittoria della marina la vittoria contro la l'aves per quattro a uno il pareggio rete bianche forza su una spagnol la vittoria della telecomadite in quel di vigo partita difficile per gli uomini simeone risolta da una doppietta di correa che come sempre si è stato rimontato decisivo già era stato lo scorso anno anche quest'anno è uno degli uomini più importanti del ciolo poi c'è stata la vittoria per quattro a due del barcellona sulla real società c'era abbastanza curiosità di vedere come il post messi la prima partita senza messi il bacio una risposta abbastanza positivamente great way the store il match con una doppietta è andato in gola anche perché diciamo tanti sorrisi in casa blaugrana questa è stata la vittoria del sevilla contro il valecano 3 a 0 vittoria viziata dall'espulsione di luca zidani figlio di zinni di zidane che il potere del raio valecano è stata l'espulsione al minuto 16 praticamente ha cambiato la gara perché l'erario parecano rimasto in 10 per tutta il resto dei minuti quindi c'è stata la doppietta di la mela a rotondare il 3 a 0 poi le ultime due partite che sono disputate lunedì fra via real e granada 0 a 0 lo stesso risultato fa il cea da di bilbao pareggio reti bianche luca hai visto qualche partita questo fine settimana sicuramente avrei seguito qualcosa del real ma guarda non sono non sono riuscito a vedere la prima del barcellona senza messi però fa fa un po sensazione che questa sera parleremo del periodo spagnolo di maradona e questo atletic bilbao barcellona invece sarà la prima partita senza senza messi quindi insomma avremo modo insomma di toccare entrambi i più grandi giocatori argentini della storia insieme insieme a di stefano insomma senza voler scomodare senza voler dare fastidio a nessuno per quanto riguarda il real madrid sono sono contento di questo inizio nuovo inizio di era ancelotti che dopo aver passato in un certo qual modo il testimone al suo al suo secondo anche se non direttamente ma indirettamente dopo il breve intermezzo di rafa benitez parlava appunto di di zidane ha ripreso esattamente dove dove aveva lasciato invece zidane quindi un po di grandi giocatori nella storia di questa liga che ricorrono perché ricorre il nome di zidane come hai giustamente fatto notare tu per quanto concerne l'espulsione di luca tra l'altro anche anche zidane è stato espulso in una partita contro contro il siviglia quindi insomma esordi amari in questo caso in casa in casa zidane luca porta bene lo stadio no non porta sancespi squad non non porta tanto bene alla famiglia zidane però voglio dire almeno per quanto riguarda zinedine yazid tutto il resto insomma è andato è andato piuttosto bene ora vedremo che tipo di carriera sarà in grado di fare luca che comunque è un discreto portiere comunque si è disimpegnato per diverso tempo anche nelle nelle giovanili del del real e non solo perché è un figlio d'arte che voglio dire se se gioca se gioca nella liga è perché comunque a fisico a qualità a una bella esplosività insomma non non gli getterei la croce addosso certo un'espulsione dopo 16 minuti è chiaro che ti ti manda la partita su un binario completamente sbagliato però soprattutto anche c'è stato un errore di valutazione nell'uscita sì diciamo però non come ha detto giustamente tu non sarebbe giusto bocciarlo alla prima partita no 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 anche perché veniva da non fu titolare la scorsa stagione però giocò da titolare i playoff quindi diciamo è un portiere che sicuramente i raola ci conta sicuramente non sarà la prima volta che giocherà sulla lì che ha giocato sulla liga e sicuramente lo rivedremo in campo ne siamo certo sì 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 assolutamente io sono sono convinto certo dovrà cercare di limitare di limitare gli errori però siccome è un ruolo che amo il portiere avendolo insomma praticato a livello dilettantistico posso dirti che bocciare un portiere dopo una partita non fa non fa mai bene altrimenti credo che non giocherebbe più nessun portiere insomma dovrebbero mettere gli attaccanti in porta se continuiamo di slovarci per quanto riguarda il il barcellona mi fa parecchio effetto dover dire che bright fight il l'attaccante danese è stato preso diciamo per per coprire un po un buco in avanti diversi diversi mesi fa un anno e mezzo fa se non sbaglio e adesso si ritrova ad essere ad essere il giocatore principale sì diciamo che la più grande preoccupazione in casa barcellona in questo momento oltre a un debito di bilancio che qualcosa di spaventoso ma non sono gli unici perché anche il real madrid seppur in minor parte è combinato abbastanza male quanto quanto a finanze la più grande preoccupazione un po il ritorno di questo ansufati che dovrebbe essere lui il vero erede di di messi per quanto sia difficile poter dire erede e messi nella stessa frase un po come è successo con maradona anche se per quanto riguarda il barcellona maradona insomma è stato abbastanza sfortunato perché il barça ha vinto prima e dopo di lui ma con lui ha vinto poco e l'epoca maradona durò solamente due anni quella di messi è durato quasi venti anni quindi no ma non è non è non è paragonabile nel senso se dovessimo chiedere a qualsiasi tifoso catalano di di parlare di maradona e di messi non non sarebbe assolutamente un discorso neanche che da da cominciare messi è il più grande giocatore della storia del barcellona uno dei primi tre in assoluto nella storia del calcio non me la sento di dire altro perché giustamente sono un po di preconcetti per quanto riguarda maradona da napoletano evito opportunamente l'argomento gut sì 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 non è non è il caso non sarei non sarei obiettivo io tornando al discorso di la partita di domenica per esempio mi è piaciuto un po l'attitudine di barcellona nel senso ovviamente ci sono dei giocatori che adesso la scusa è finita di c'è messi quindi ci pensa lui quindi alcuni giocatori devono prendersi le responsabilità in campo ho visto buone cose dalla difesa soprattutto soprattutto la coppia pique eric garcia mi è piaciuta e secondo me di eric garcia sicuramente ha un grosso futuro davanti speriamo che adesso pique riesca un paio da anni tre a fai da guida perché secondo me c'è un grosso potenziale la poi ho visto di nuovo un campo pedri ha giochicchiato abbastanza bene nonostante sia la cent la settantacinquesima partita diciamo per lui non c'è stato un fine stagione perché è rientrato lunedì scorso già è già giocato come detto giustamente tu diciamo il futuro in avanti di bacione dipenderà molto da ansufati a come si riprenderà da questo è un fortuna ho letto che praticamente sarebbe e dovrebbe essere pronto dalla giornata numero 4 proprio ci sarà da vedere se il pronto significa che dovrà acquistare il match fitness senso perché ovviamente è un anno che non gioca quindi per riprendere i ritmi partita sarà dura all'inizio soprattutto però il ragazzo giovane anche lui diciamo c'è un po soprattutto ho visto anche bene sia memphis che dei young per esempio i due olandesi memphis non è andata in gol per ho visto si è mosso bene diciamo io ma all'epoca quando quando messi annunciò che se ne andava io ovviamente in un post scrissi che la cosa meno preoccupante è il fattore tecnico era molto più preoccupante ovviamente il fattore economico i milioni la montagna i debiti che bacione c'aveva che a livello tecnico la squadra c'ha tutto per competere quantomeno nella liga poi magari a livello europeo champions league è uno scalino o anche due o anche tre inferiore alle inglesi al liverpool al celsi lo stesso pari san germain diciamo è un sogno poter competere per la champions league però a livello di liga secondo me in barca è lì con il reale con l'atletico sì non è che sia inferiore ovviamente messi a pezzo tutto il potenziale d'attacco cioè però alla fine comunque se ci sono sempre delle soluzioni la squadra è sempre una squadra signora squadra sì considera che nelle ultime due stagioni di champions league il barcellona con messi è uscito 8 a 2 contro il bayern monaco e ha perso 4 a 1 in casa dal paris san germain quindi dal punto di vista della champions league dopo tutto quello che c'è stato chiaramente voglio dire non non vince della champions dal dalla stagione di luiz enrique con con messi e neymar a giocare insieme e su ares e nel momento in cui togli su ares togli nei mare togli messi devi andare avanti con con quello che hai davanti il materiale è ottimo se raffrontato con quella che è la storia del barcellona in generale ovvero negli ultimi cento cento anni di storia del barcellona è un ottimo materiale secondo me si piazza a livello medio alto per quella che è la storia del barcellona se ne facciamo un concetto del barcellona di messi diciamo dal dal ronaldino e to messi in poi è chiaro che siamo un gradino sotto tutti sì però griezmann griezmann il griezmann visto con l'atletico madrid e soprattutto nei mondiali vinti nel 2018 con la francia è un grandissimo attaccante il griezmann dell'atletico madrid è un giocatore che non faceva reparto da solo ma gli bastava una una punta davanti per poter aggredire lo spazio e fare fare gol in tutti i modi e maniere il griezmann di barcellona invece è un giocatore che non è mai riuscito a trovare il suo spazio vitale all'interno della squadra ora poter giocare con griezmann con memphis depai che più che falso 9 che è un concetto che a me non piace troppo memphis depai è un attaccante arretrato no un centro avanti arretrato è uno che a cui piace giocare la palla è una punta di movimento si viene a prendere palla che si butta sugli esterni diciamo lui originalmente era un ala a tempi del manchester united era un ala può essere riconvertito prima punta secondo appunto a seconda con lione soprattutto secondo me può fare quel ruolo lì che poi si chiama il falso 9 come lo vogliamo chiamare di movimento come queste sono nomenclature al di là di quello secondo me può fare quel ruolo lo può fare abbastanza bene quantomeno nel campionato spagnolo ripeto poi dopo il banco di prova champions league quello è un altro è un altro è un altro terreno dove andrà ai cauti però secondo me nella liga il bacionato c'ha tutto per poterla adottare non mi manca nulla e poi dobbiamo vedere come rientra osman dembélé che dembélé è un altro giocatore che è stato pagato 120 milioni è un giocatore che prende parecchi soldi nazionale francese anche lui anche se magari non titolare quindi abbiamo griezmann abbiamo dembélé abbiamo memphis depai abbiamo bright fight che è comunque un buon giocatore non stravedo assolutamente per lui forse si è capito ma è un buon giocatore voglio dire non un buon rincalzo sì il barcellona con un classico 4 3 3 all'olandese può può dire tranquillamente la sua e confido anche in koeman che ha avuto il coraggio di portare avanti dei concetti di gioco anche nel momento in cui sapeva probabilmente non so se sapesse proprio tutta la situazione relativa alle difficoltà finanziarie del barcellona alla possibilità o meno di rifirmare messi è un qualcosa che probabilmente è a mezzo stampa né attraverso i diretti interessati sapremo mai però se nella passata se un anno fa eravamo convinti che messi avrebbe lasciato il barcellona per trasferirsi alla alla corte del manchester city per ritornare da pep guardiola nel momento in cui è andato a scadenza tutti pensavamo che avrebbe rifirmato col barcellona era fondamentalmente nell'aria poi sì per le difficoltà di cui abbiamo parlato l'altra volta non si è concretizzata la cosa il paris saint germain che non ha limiti dal punto di vista finanziario con i fondi catarioti che continuano a dimettere denaro e poi vedremo vedremo dopo i mondiali del 2022 come andrà a finire la storia del psg di archelaifi e dei fondi catarioti vediamo dopo i mondiali del catarsi avranno ancora voglia di investire tutte queste cifre altisonanti nel calcio agganciandosi al discorso barcelona la prossima giornata il clou della giornata è proprio atletic bilbao barcelona diciamo ci sono anche stasera inizia la seconda giornata inizia già stasera alle 9 fra qualche minuto c'è il real betis caris che è un derby andaluso poi domani giocherà appunto barcelona alle ore 22 poi domenica c'è la teico madrid con l'elce il madrid che gioca a valenza contro il levante diciamo sulla carta due impegni per le madilene abbastanza meno difficoltosi quelle che aspetta barcelona perché storicamente il barcelona ha sempre sofferto mi trasferta stanno messo sia dai tempi antichi del dal 12 a 1 del 1931 fino ai anni 80 quando c'erano le battaglie fra il barcelona di clemente fra il barcelona di benotti e l'atletico di clemente sono sempre state sfide dure io mi aggancerei al discorso messi poi per far vedere uno il video della della finale di coppa del re dove messi fece si ha fatto messi fece dove messi ha fatto messi si è ed è probabilmente anche giusto che sia questa l'ultima immagine di di messi a barcellona un'immagine vincente no questo è stato il gol di messi nella finale mamma mia la 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 sterzata che fa un poco più avanti del centrocampo sulla fascia destra che manda completamente al barri il difensore poi arriva in aria e riesce con a a questa capacità ancora adesso in classe 87 di spostare il pallone prima che lo fa vedere al difensore fa vedere il pallone poi lo fa sparire davanti con un gioco di prestigio che in realtà non non è altro che toccare piano piano il pallone a piccoli tocchetti e poi spostarlo al momento opportuno per mandare il difensore fuori tempo a questa capacità che non ha avuto nessuno nella storia e in questo caso devo dire neanche maradona maradona riusciva riusciva a bruciare i difensori in virtù di una di una potenza nelle gambe assoluta un baricentro bassissimo come quello di messi ma messi ha un fisico molto più asciutto e chiaramente è un professionista diverso da quello che che maradona si può dire che maradona dal dal momento in cui è nato fino al 1980 fino al direi fino all'epatite poi c'è stato il problema del secondo infortunio poi abbiamo visto un maradona assurdo dal dal 8 gennaio 1984 io dico fino alla fine dell'87 no fino alla fine del primo scudetto con il napoli quello è un maradona incredibile che ha anche saputo adattarsi a un campionato diverso a un ambiente completamente diverso e anche ad aspettative diverse perché il barcellona gioca sempre per vincere il campionato il napoli nel quale approda maradona è una squadra che lotta per non retrocedere o comunque cerca di barcamenarsi a metà classifica poi quando ferlaino si accorge che con maradona magari si può anche vincere riesce a costruirgli intorno un cast di supporto tale da poter giustificare l'investimento maradona il il maradona che arriva a barcellona invece è la ciliegina sulla torta di una di un'ottima squadra magari non una squadra che poteva dominare la liga ma parliamo di una liga comunque con pochi stranieri si partiva di dibattito si partiva per per vincere la liga all'obiettivo sì 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 però è molto equilibrata c'era comunque sia real madrid che l'atletico bilbao eh che l'atletico madrid tra l'altro l'atletico madrid nel quale giocava poi eh ugo sanchez maradona arriva in una liga dove ci sono diversi giocatori argentini eh sia eh diciamo un po' un trade union fra la generazione che ha vinto i mondiali del settantotto perché c'è ancora mario kempes al valencia e la generazione che eh ha vissuto lui nell'ottantadue e che porterà poi a fino a vincere i mondiali nel nell'ottantasei perché c'è comunque valdano nella liga e poi c'è ugo sanchez nell'atletico madrid che finalmente riuscirà a vincere la liga solo dopo il passaggio al real esatto ugo che ha ha giocato in tre squadre di madrid perché poi farà anche sedici gol nel nel novantadue novantatre con il nel novantadue novantaquattro scusami con il con il raio aiecano di cui parlavi giustamente tu prima retrocedendo poi in uno sfortunato eh spareggio col compostela però poi si presentò con quella grazie a quella a quell'annata si presentò poi ai mondiali di usa novantaquattro da da titolare con il messico ritornando ritornando a messi io sono sono curioso di vederlo di vederlo in maglia PSG e sono soprattutto curioso di vedere come la prenderà Mbappé perché Mbappé ha una ha una collocazione tattica del tutto particolare è un attaccante che può giocare sia con una con una punta centrale davanti l'anno scorso l'anno scorso mi piaceva molto il il Paris Saint Germain con Moise Ken davanti quindi c'era Mbappé c'era Neymar che poi in realtà sono giocatori che raramente vediamo insieme perché Neymar gioca più o meno quando gli fa comodo quando non è infortunato quindi diciamo che Messi sarà sarà quello che fa cambiare mentalità alla squadra il Paris Saint Germain è pericoloso perché c'è Messi ma non perché c'è Messi in campo ma che c'è Messi nello spogliatore che Messi vuole vincere Messi è andato via da Barcellona fondamentalmente non per una questione di discorso finanziario perché altrimenti si sarebbe arreglato per 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 dirla alla spagnola avrebbero risolta prima la situazione e se podía arreglarlo però non l'hanno fatto è andato è andato via da Barcellona perché si era rotto qualcosa con con la dirigenza sia quella di Bartomeo sia quella di Laporta perché Laporta gli ha fatto la promessa di rinnovargli il contratto di costruirgli attorno una squadra competitiva non l'ha fatto l'ha lasciato andare adducendo insomma alla questione Tebas e alla questione diciamo delle clausole contrattuali del fair play finanziario della Liga che non avrebbe potuto chiaramente rinnovarlo il rinnovo andava fatto prima andava fatto l'anno scorso quando c'era c'era la possibilità di farlo una volta che Messi è andato a scadenza non c'era più questa possibilità si è stata una roulette russa nel momento che è messo in scadenza poi si complain anche il discorso burocratico però secondo me tornando a Messi poi saltiamo il discorso Messi che sarebbe di un podcast a parte secondo me c'è stato qualcosa sotto con la porta perché il giocatore sembrava che voleva rimanere la porta sembra che si è tirato niente non è che 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 non lo puoi scrivere non te ne accorgi un giorno prima cioè lo sai a monte quindi c'è stata venduta un'immagine di che Messi firmava che Messi firmava quando probabilmente già si sapeva che che non c'erano le condizioni per farlo rimanere al di là di quanto possa si possa essere ridotto l'ingaggio o meno ovviamente non è che un Messi possa giocare gratis detto questo ecco secondo me è stata la porta avvenuta un'immagine falsificata o distorta della realtà quando è arrivato al punto di non ritorno ha dovuto alzare le mani e ha detto Leo qua non ti possiamo prendere non ti possiamo ringaggiare e a quel punto è cascavo è cascato il mondo è cascato il Bachelona perché nessun cioè tutto l'entourage probabilmente in pochi sapevano che erano messi talmente male che avrebbero dovuto dirgli di no al di là del discorso rinuncia ai soldi riduzione di ingaggio massa salariale che quelle sono così però secondo me ecco loro sapevano che non non l'avrebbero potuto accontentare e però hanno venuto fino all'ultimo l'immagine del sì se puede e alla fine no quando hanno dovuto scoperchiare la pentola era vuota io sono totalmente d'accordo con te non ho nulla da aggiungere se non che ti sembra normale che con un giocatore come Messi il Paris Saint Germain in tre giorni gli fa il contratto e e lo presenta ma magari io sono abituato male con De Laurentiis che ci mette un anno e mezzo per fare un contratto però già c'erano i fili già tirati nel senso assolutamente c'erano alle l'entourage ovviamente si era già allertato nel senso che se quale cosa se ne vanno male già abbiamo l'avvocati che già avevano preso contatti questo è normale anche perché Messi fondamentalmente lo potevano prendere solo due squadre in Europa nel mondo diciamo Paris Saint Germain e Manchester City le uniche economicamente in grado di prendere Messi e anche tecnicamente perché Messi non anche se magari saltava fuori che il Copenaghen aveva i soldi per prendere Messi ovviamente Messi non ti va il Copenaghen nominando una squadra a caso ovviamente non perché ci abbiamo niente quanto il Copenaghen però ovviamente Messi poteva rimanere in una situazione dove gli potevano garantire economicamente e tecnicamente la competitività per i prossimi due anni l'unica erano City o Paris Saint Germain fatto fuori il City perché aveva speso 100 milioni di sterline il giorno prima per Grealish e stava tuttora inseguendo Harry Kane ovviamente rimane solo il Paris Saint Germain e ovviamente l'endourage Messi aveva già qualcosa sotto pronto come alternativa giustamente come piano B 30 anni fa quando se ne andò a Maradona il Barcelona vinse subito la Liga con Archibald capocannoniere chissà che non capita anche quest'anno con Messi con lo scozzese Archibald capocannoniere della squadra e poi c'è una storia curiosa dietro all'arrivo di Archibald a Barcelona perché la dirigenza si era accolata con Ugo Sanchez l'avranno chiamato Ugo Sanchez Ugo Sanchez era nell'albergo dove l'avranno invitato pronto a firmare mentre Terry Venables si era un caponito che voleva portare Archibald dal Tottenham che era lo scozzese che all'epoca giova al Tottenham ha detto secondo lui era l'unico attaccante che faceva il suo gioco già aveva identificato quindi la dirigenza rimasse con un piede di qua e poi di là da un lato voleva Lugo Sanchez perché era stato caponitore della Liga era una garanzia di gol però dall'altra il tecnico che voleva lo scozzese quindi alla fine diedero ragione al tecnico ebbe ragione hanno avuto ragione sì poi l'esperienza di Archibald fu limitata perché durò un anno e mezzo poi ci fu l'infortunio e poi diciamo dopo la sconfitta in finale contro lo Steaua anche lì ci fu il caos totale in casa di Barcelona poi tornando al discorso Maradona lui arriva a Barcelona dopo un lungo inseguimento perché già lui quando aveva sordito con l'Argentino Juniors c'era stata la lista di pretendenti addirittura c'era stato lo Sheffield United che l'aveva quasi preso la leggenda narra che l'allenatore che era stato un tournée l'aveva visionato l'aveva quasi preso poi alla fine per un tema economico non lo prese e fu Alejandro Sabella che andò invece allo Sheffield United fu il primo argentino insieme a Ardiles a militare nella Premier League perdone nel calcio inglese perché lo Sheffield United all'epoca era in seconda divisione che è l'attuale Champions League mentre Ardiles fu ingaggiato dal Tottenham Ardiles e Sevilla furono ingaggiati entrambi dal Tottenham nel 78 e furono i primi a giocarne all'epoca si chiamava la Championship che sarebbe l'attuale Premier League Maradona ebbe un flirt anche con l'Arsenal addirittura c'è un articolo del Daily Mail dove c'è scritto che I love to play with Arsenal che Maradona sarebbe stato incantato ma alla fine l'interess chi preme il bottone è il Barcellona il Barcellona già da un paio d'anni inizia la trattativa solamente che all'epoca c'era la dittatura e Maradona era visto un po' come l'immagine del calcio argentino erano un po' reticenti non erano tanto sicuri di lasciarlo andare quindi fecero in modo di trattenerlo il più possibile poi quando l'offerta del Barcellona fu quella giusta i club argentini come adesso erano sempre stati pieni di debiti alla fine fu costretto a accettare la dittatura del visto il Boca accettò il Boca addirittura ce l'aveva in comproprietà con l'Argentino Junior credo si dividero fetta del prezzo pagato dal Barcellona e Maradona arrivò a Barcellona fu un'estate un po' lui prese il posto di l'olandese il danese Simonsen come secondo straniero perché già c'era il primo straniero che era Ben Schuster tedesco in quell'anno arrivarono diversi giocatori arrivò Perico Alonso il mediano della Real Sociedad che sarebbe il padre di Xavi Alonso poi Marco Salonso un esterno offensivo che è il papà di Marco Salonso che attualmente gioca con il Chelsea anche lì la storia dei tre perché Marco Salonso Senior diciamo il figlio di Markitos del Real Madrid degli anni 50 quindi ci sono le tre generazioni di nonno, papà e nipote che hanno giocato nella selezione diciamo questa è un'altra storia poi arriva il terzo Alonso che è Pici Alonso l'attaccante del Real Saragossa poi arriva anche Giulio Alberto il terzo signor di fascia proveniente dell'Atelico Madrid questa è la squadra che il presidente Nunez dà in mano al tecnico al tedesco Lattek con il quale Maradona non va tanto d'accordo perché Lattek è più mentalità tedesca sergente di ferro e Maradona arriva a 22 anni fondamentalmente è già un grosso nome però fa un mondiale relativamente sottotono anche perché l'Argentina va fuori lui si fa espellere quindi arriva là con la fama però Lattek lo mette un po' cerca di metterlo in riga in realtà poi si sconta con il Maradona superante in campo fuori sì, guarda, Maradona la storia dell'arrivo a Barcellona vede diverse figure fondamentali nella storia che raccontiamo oggi di figure importanti ce ne sono secondo me cinque e oltre a Maradona abbiamo Ber Schuster del quale Diego dirà che era mas loco che c'ho quindi era più pazzo di lui che diciamo considerando che il Barcellona era allenato da un tedesco prima poi che venisse esonerato perché fa un campionato comunque dove arriva quarto quindi Nunes che è l'altra figura fondamentale insieme al flaco Menotti decide di chiamare l'unica persona che può dare a Maradona quello che Maradona si aspetta l'unica persona a cui Maradona può dare qualcosa come tutti ormai si attendono anche perché viene pagato circa 7 milioni di euro moderno quindi diciamo torno agli 11-12 miliardi Diego dal Boca Junior Boca Junior che aveva ceduto mezza squadra mezzo patrimonio mezzo capitale calcistico per avere Maradona per vincere poi cosa? il metropolitano del 1981 Maradona gioca i mondiali di Spagna 82 quindi con la Spagna nel destino perché il 5 giugno viene ufficialmente acquistato dal Barcellona attraverso l'intercessione di Mingheia che è la persona che diciamo era l'operatore di mercato del Barcellona un po' quello che il nostro Totonno Juliano sarà la figura poi che attraverso il Napoli si Mingheia che fu poi anche uno dei protagonisti nella trattativa con Messi il famoso foglio la serviglietta il tovagliolo di carta firmato da Charlie Reschak che all'epoca era direttore generale di Barcellona proprio con Mingheia durante una partita di tennis dopo la partita di tennis Mingheia lo pressò e dice no me lo prendi sto ragazzino o no? Charlie Reschak firmò sul tovagliolo di carta del bar del circolo tennis di Barcellona firmò che si impegnava a sottoscrivere un contratto con tale Lionel Messi Cusitini che all'epoca non lo conosceva nessuno tra l'altro non era facile perché comunque il Messi che arriva a Barcellona è un bambino tra l'altro con problemi dal punto di vista della crescita come direbbero gli argentini rischiava di essere un enano però la storia fortunatamente ha detto tutt'altro tornando al discorso ti volevo correggere una cosa l'ATEC durante la stagione fu esonerato sì sì intorno alla 26esima giornata sì arrivo a Menotti appunto appena nel posto del tedesco perché già avevano visto che con l'ATEC Maradona diciamo erano incompatibili e una delle prime cose che fece Menotti fu quella di cambiare l'orario degli allenamenti portarli al pomeriggio perché prima con l'ATEC si allenavano la mattina Menotti li portava al pomeriggio perché così sia Diego che lui potevano riposare perché anche Menotti diciamo era uno un personaggio che amava le notti barcellonesi la prima la prima dichiarazione che fa Menotti quando quando gli chiedono di Maradona lui ammette candidamente in questo momento Maradona è il calciatore più importante del mondo ha tutto alle skills alla capacità sottoporta e poi sottolinea un qualcosa che a Barcellona non si era ancora visto ovvero il carattere di Maradona è un carattere da leader invece il messaggio che passa attraverso Maradona che non dimentichiamo a dicembre si becca un'epatite che lo fa stare lo fa stare lontano dai campi per circa due mesi e mezzo quasi tre mesi un po' come poi succede nella seconda stagione quando quando si rompe i legamenti della caviglia però in questo caso in modo traumatico come vedremo per l'intervento che tutti conosciamo di Andonico Ecocea dell'Atletic Bilbao e Maradona invece passa come il il ribelle lui in una in una intervista con Gianni Minà ehm ammette che faceva uso di droga già dal periodo del Boca Junior quindi non è qualcosa che lui ha trovato a Barcellona nel momento in cui arriva a Barcellona chiaramente dal punto di vista economico il suo portafogli ha una un exploit incredibile e quindi anche la droga passa più passa più facilmente poi è chiaro che nel periodo napoletano ne diventa dipendente ma né al Boca né al Barcellona lo era ne faceva uso ma non era dipendente dalla cocaina a Napoli invece lui diventa proprio dipendente dalla cocaina fino a che poi il calcio italiano e lo stesso Ferlaino non decidono di liberarsene fondamentalmente perché poi Maradona viene salvato a più riprese all'antidoni diciamo anche anche la stessa Camorra gli volta un po' le spalle sì sì ma è chiaro che poi il clan dei Giuliano a un certo punto aveva in mano tutta forcella e quindi gli procurava gli procurava anche la droga e a un certo punto gli volta le spalle anche perché ciò che la Camorra non vuole per parafrasare il buon Roberto Saviano è la pubblicità e va bene associare una volta il nome di Maradona a quello di un clan ma finire costantemente sulle prime pagine dei giornali grazie o a causa di Maradona vuol dire poi attirarsi chiaramente tutte quelle che sono le inchieste e la polizia che non vogliono ovviamente tra i piedi ma secondo me però potrebbe essere visto anche al contrario il discorso che le famose foto di Maradona poi alla fine sono rimaste segrete sotto fin quando Maradona faceva comodo al Napoli e alla Camorra il momento che poi era diventato un oggetto inesubero che avevano visto che già non serveva più allora sono state immesse sul mercato per far vedere per macchiare l'immagine di Maradona perché alla fine un camorrista l'immagine c'era già macchiata di suo per l'attività che fa mentre collegando Maradona alla Camorra macchina l'immagine di Maradona quindi secondo me potrebbe essere tutte e due però va visto anche al contrario in quel momento Maradona quelle immagini erano state fatte magari due o tre anni prima nessun giornalista aveva potuto pubblicarle anche perché pubblicate le immagini erano immagini abbastanza forti dopodiché quando Maradona arriva a un certo punto che già non serve più al Napoli già diciamo è in fase già soprattutto dopo il mondiale 90 quando si crea poi il conflitto che si aprono tutti i conflitti possibili con l'autorità delle tasse con l'Italia in generale perché dopo il fatto del mondiale quindi diciamo già Maradona era diventato diciamo un oggetto inesubero nel calcio italiano quindi incomincia uscì fuori contro le antidoping che prima ovviamente non si sa se miracolosamente o perché era pulito però non è mai stato controllato né pescato quello che però volevo far notare rispetto a Baccellona che lui arriva dall'Argentina arriva è la sua prima esperienza all'estero 22 anni ovviamente si porta dietro il clan argentino amici fratelli cugini eccetera quindi c'era si porta dietro una ventina 25 persone che vivono praticamente con lui vivono non solo con lui ma a sue spese quindi c'è quello che gli fa il servizio X il tassista l'autista e solamente che rispetto a quello a Napoli per esempio i primi anni di Maradona le sue marichelle erano rimaste nascoste per un volere esterno che di protezione la camorra o diciamo riusciva comunque sia ok Maradona fa questo questo quest'altro va a letto con questo con questa però nessun giornale lo pubblica nessuna televisione alza nessuno si permette di criticare Maradona quindi c'è diciamo c'è una certa protezione quello che lui non ha a Barcellona è la protezione perché Barcellona come fa un errore come arriva alla mentela dei vicini è una polemica con la società il club e lì si sconta con Nunez Nunez è un padre Maradona del Barcellona vuole mettere Maradona come non dico come sono sottoposto però lo vuole cercare di mettere in riga quindi lui si sconta con Nunez anche da questo punto di vista e non c'è la protezione perché la gente fondamentalmente a Barcellona diceva bel giocatore però ok se va a discoteca e fa casino cavoli suoi quindi c'è anche questo qua e lui diciamo arriva dopo i due anni che diciamo c'ha come si dice c'ha le scatole piene di questo di questo di quello che gli accade intorno al di là del discorso calcistico questo diciamo sì sì a Napoli il punto di svolta è scusami non ti ho sentito non so se condividi un po' con la mia panoramica dell'idea che mi sono fatto io sì sì no condivido l'unica cosa che volevo aggiungere l'unica cosa che volevo aggiungere rispetto a quello al discorso della protezione e a Napoli questo cambia dal dal momento in cui viene intervistata Cristiana Sinagra che è la mamma di Diego Armando Maradona Junior da lì in poi Maradona viene si capisce che è un bersaglio facile anche per la stampa e da lì verrà comunque tenuto tenuto sott'occhio e deciderà tra l'altro per un certo periodo proprio di non parlare con i giornalisti se non proprio alcuni alcuni fidati chiaramente l'addetto stampa del Napoli Carlo Giuliano e Gianni Minà parlerà fondamentalmente solo con Gianni Minà e pochi altri c'è qualche intervista con Italo Chiune ma poco poco altro e poi ci si ricorda chiaramente di Bistecchone Galeazzi che segue da vicino i successi del Napoli Maradona al Barcellona poi va incontro a alcune situazioni negative che secondo me non dipendono neanche poi così tanto da lui anzitutto il suo stile di gioco è completamente diverso rispetto rispetto a quello che vedremo a Napoli Napoli gioca molto più vicino alla porta soprattutto dal momento in cui viene acquistato Ciccio Romano e a Barcellona invece ci sono diversi attaccanti diverse ali e lui gioca leggermente più avanzato rispetto a Bern Schuster cioè diciamo un un problema anche di spaziature a mio avviso nel nel tipo di gioco che fa il Barcellona nonostante questo Maradona ha una media goal al Barcellona molto più elevata rispetto a quella che avrà a Napoli anche perché chiaramente è distribuita su due stagioni e a livello di infortuni sia il legamento della caviglia sia la questione delle patite gli faranno perdere circa sei mesi sei mesi di gioco e poi diventerà un un bersaglio dell'Atletic Bilbao perché l'Atletic Bilbao innanzitutto nei primi anni 80 il calcio basco domina la Liga perché vince due volte la Real Sociedad di Arconada e due volte poi vincerà l'Atletic Bilbao nei due anni in cui Maradona milita in Spagna vince entrambe le volte l'Atletic Bilbao nella seconda Liga addirittura a pari punti con Real Madrid in virtù degli scontri diretti vince vince la Liga un punto sopra al Barcellona che dal ritorno di Maradona in campo dopo l'infortunio riesce a mettere insieme nove vittorie nelle ultime dieci partite tra l'altro battendo l'Atletic Bilbao nella seconda stagione sia all'andata che al ritorno battendolo in quella che era la Supercoppa di Spagna e perdendo una sola partita decisiva che è la partita del 5 maggio 84 al Santiago Bernabeo di Madrid che tutti conosciamo per la rissa che si è scatenata a fine gara 1-0 per l'Atletic Bilbao che quindi riesce a fare il doblete Liga e Coppa del Rei Coppa del Rei che invece il Barcellona aveva vinto unico vero trofeo di Maradona in maglia blaugrana in finale contro il Real Madrid nella stagione precedente esattamente poi furono però due trofei vinti da Maradona anche la perché all'epoca la Coppa della Liga la Coppa della Liga la Coppa della Liga e anche lì in finale con il Real Madrid e di quello volevo proprio far vedere uno spezzone perché c'è uno dei Maradona fa un gol clamoroso sì clamoroso vediamo se adesso c'è qualcuno che è ancora seduto a terra per quel gol quindi lui di gol a Barcellona ne fa parecchie ne fa 33 sono tanti eccolo qua vediamo eccolo qua per le per le medie di Diego 33 gol in due stagioni sono tanti arriva qua punta al portiere campo aperto ma in porta lo salta lo salta e non tira subito tempo tira subito no tempo reggia arriva Sandro Can Juan José lo fa sbatte contro il palo e poi mette dentro vediamo la pagnolata dei tifosi aveva sì aveva fatto una roba simile anche in maglia Boca Junior contro contro il River Plate quindi era abbastanza abituato a questo tipo di giocata dove il difensore cerca di recuperare all'ultimo secondo e Diego Diego ne faceva di gol così tra l'altro a proposito di gol in cui entra entra in porta col pallone anche un po' forse controllandola di mano la partita dove viene falciato da Andoni Goicocea è la quarta giornata d'andata della della seconda stagione in Liga il Barcellona vince quella partita 4 a 0 4 a 0 contro la futura campione della Liga e della Coppa del Rey Goicocea viene squalificato per mesi poi riescono insomma a riportare la sua squalifica entro le le sette partite e nella gara di ritorno non viene nemmeno espulso viene ammonito sì solo dopo viene viene squalificato originariamente 18 giornate e poi vengono ridotte a 7 a 7 da lì gli verrà pioppato il suo pannome di macellaio di Bilbao macellaio di Bilbao credo che sia stato un giornalista inglese il primo a dai questo nome un giornalista inglese che ha in servizio non so se del Guardian o di qualche altro giornale inglese gli ha più poi il nome proprio di Butcher of Bilbao però guarda anche in questo caso è un peccato perché Andonico Goicocea da noi in Italia viene conosciuto solo per questo e io da Maradoniano l'ho conosciuto per questo poi mi sono reso conto che era anche un gran bel giocatore voglio dire perché la gente fondamentalmente lo odia per questo lo associa solamente a quel calcione ovviamente era un difensore che se non prendeva la palla prendeva il piede questo sia chiaro non si andava giù però era un un Sergio Ramos con meno con meno tecnica però quel tipo di leadership magari c'era la figura con quei zigomi con quelle macelle che sembrava tipo un sicario della mafia belorussia della mafia belorussia però no fondamentalmente cioè a 312 partite nella Liga 35 gol era uno anche che poi segnava e quell'anno mi sembra fece solo due reti l'anno prima fece quattro però era uno che feceva sempre sei sette reti quattro reti insomma ha spalmato 35 reti in carriera per un difensore non so un po' e poi è stato a lungo il stop della nazionale assolutamente io condivido infatti sì che ricordavo volevo spezzare una lancia volevo spezzare una lancia a suo favore anche se poi sarà tra i principali protagonisti anche della della rissa di tutte le risse però insomma mi sembra anche giusto ricordare che non era uno che menava solamente ma sapeva giocare a pallone è chiaro che la rivalità tra Barcellona e Atletic Bilbao è ha un chiedi particolare perché sono due nazionalismi o regionalismi identitari molto forti quindi ci sono catalani da una parte baschi dall'altra e per parafrasare una un detto molto molto abusato prima quindi durante il periodo della dittatura franchista erano amici ma non amici per la pelle erano amici perché avevano un obiettivo comune quindi nel momento in cui il nemico del mio nemico diventa amico lo riesco a tenere dalla mia parte finito quel discorso lì non c'è più la la retorica nazionalista eh di Franco non c'è più la spinta indipendentista dei paesi baschi e dei dei catalani o almeno non è più volta contro un nemico comune come quello che poteva essere la dittatura franchista ma contro lo stato spagnolo in in se per sé e quindi poi da da lì la il discorso si trascina su un piano sportivo la rissa che noi vediamo del maggio dell'84 non è solo dovuta a una rivalità di campo ma è dovuta anche a una rivalità identitaria che Javier Clemente eh nei giorni antecedenti la gara dice qualcosa come dovremmo liberarci di questa gente e fa riferimento sia a Maradona sia al Flaco Menotti che sono due dei personaggi principali di questa di questa storia ma fa riferimento anche a Ben Schuster perché Schuster è un alleato di Maradona Schuster l'ha sempre difeso adorava Maradona infatti tra i messaggi di auguri per il sessantesimo compleanno di Diego compare anche lui visibilmente invecchiato con una bella barba poi di lì a poco lo sappiamo i messaggi di auguri si trasformeranno in messaggi di cordoglio dopo neanche un mese purtroppo però il conflitto era anche a livello a livello identitario perché poi l'Atletic Bilbao dimmi a Clemente da quando Menotti poi si è messo sulla panchina del Barcellona praticamente i due si iniziano a pizzicare perché Menotti è per il bel gioco meglio il risultato in secondo piano però dobbiamo giocare bene mentre Clemente il suo calcio è stato ribattezzato patà pompa arriva che si potrebbe tradurre come palla lunga e pedalare l'importante era vincere non importa se li pittiamo quindi c'è questo conflitto sono due poli opposti nella maniera in cui vedono il calcio un po' come Mourinho e Guardiola per esempio qua ai tempi i classici invelenati del 2010 2012 non c'era questa rivalità in quell'occasione era Pepe il goi gocea di turno però le due squadre già c'erano scontate a gennaio nel ritorno dopo la partita l'andata si giocò a settembre nel Camp Nou si ritorna Samames vince il basso e Maradona segnò Maradona due reti Maradona fa due gol addirittura il secondo di testa di testa in mezzo ai giganti dell'atelico del Vau quindi le squadre già c'erano però diciamo la rivalità era rimasta in pentola fino all'ultimo e c'era sta finale che praticamente e Maradona ci arriva abbastanza carico non sia a livello calcistico sia a livello personale perché da un lato c'è questa sensazione che l'avventura barcelona sta per finire o deve finire perché c'è anche un discorso economico ci sono dei debiti che solo probabilmente con un passaggio in una tasquadra si poteva risanare e quindi ormai si è rotto le scatole di Nunez si è rotto le scatole di Barcellona in generale perché non c'ha questo senso di protezione come parlavamo prima che poi la camorra gli darà all'inizio quindi lui sta là come un prigionero un gabbia praticamente il momento della rissa finale diciamo perché è lui che la scatena poi fondamentalmente si viene provocato viene spintonato viene picchiato gli sputano c'è anche c'è anche un pugno probabilmente che lui si poi però ne tira di grossi di calci Diego anche una ginocchiata e poi a proposito di Nunez l'altro episodio scatenante per quella che era insomma la volontà del Barcellona di liberarsene è l'occasione della partita di addio al calcio di Paul Breitner dove volevano partecipare sia Schuster che Maradona ma non hanno il lascia passare e a proposito della gara di ritorno al Samames di cui parlavi prima dove Maradona fa due gol nel primo c'è la parata del portiere dell'Atletic Bilbao su Isarreta e lui nel controllare la palla dove praticamente se la porta direttamente in rete probabilmente la prende con la mano quindi sono le proteste dei giocatori baschi che però non vengono accolte l'Atletic Bilbao pareggia subito l'Atletic Bilbao pareggia subito poi nel secondo tempo su azione d'angolo segna segna Diego anche con un bel colpo di testo tra l'altro saltando parecchio da terra e riesce a tenerla traversa con gol non male insomma non facile per quella che è la sua tornando al discorso della cessione cioè Nunez praticamente arriva a un certo punto che è molto diluvante da farsi perché da un lato si vuole sbognare di Maradona perché lo vede come un lusso innecessario dal punto di vista calcistico che fu fondamentalmente in campo ovviamente non era colpa di Maradona perché come hai detto tu in due anni è stato sei mesi per infortuni o malattie però i grattacapi che vengono da fuori dal campo lo fanno di Dubas solamente che lui non fa la prima mossa Nunez di metterlo sul mercato comunque sia di spingere verso una sessione perché per un pizzico d'orgoglio perché negli anni precedenti ha avuto delle critiche dal suo circolo gli ho detto guarda non prendere Maradona perché ti crea solo problemi lui invece aveva insistito che aveva intravisto in Maradona l'uomo in Gravole gli seguì un po' la la staffetta iniziata con Cruyff Cruyff lascia nel 78 poi arriva Simonsen però non c'ha la pille Simonsen né di Cruyff né Maradona ovviamente per buon giocatore che fosse stato anche pallone d'oro voglio dire sì però non c'ha la pille c'è un grandissimo giocatore Simonsen però quando arriva a Barcellona diciamo non c'ha la pille come Maradona o Scruyff quindi intravede giustamente che Maradona è colui che è in grado di prendere il testimone lasciato da Cruyff e diciamo calcisticamente l'idea c'era c'era giusto solamente molti l'avevano detto guarda questo ragazzo è troppo giovane fa solo che era solo problemi lui aveva insistito quindi pur di non dare ragione a coloro che l'avevano criticato rimane là sul da fase quasi che alla fine poi deve cedere perché anche Terry Venevols che sarebbe il nuovo allenatore con Venotti perché Venotti si rimette dopo la rissa con la Terry Vell e da quel momento è un countdown all'uscita di Maradona arriva Terry Venevols e si rende conto che Maradona è insostenibile dal punto di vista non tecnico ma diciamo ambientale quindi dall'ok alla cessione a quel punto poi entra Ferlai non gioco eccetera anche perché il clan di Maradona spinge una cessione ovviamente dall'Italia c'erano le voci Juventus e Napoli ovviamente sono stati saggi perché Juventus c'era Platini e Maradona doveva andare in una squadra che doveva essere lui il numero uno il capopopolo il capopopolo quello che non era quello che non era Barcellona lui questo lo dice sempre io volevo andare in un posto dove sentirmi amato e dove sentirmi leader che è quello che poi gli riesce sia a Napoli quello che gli riesce sia a Napoli sia nell'Argentina dell'86 e del 90 in realtà anche in quella in realtà anche in quella del 94 però analizzando le partite dal momento in cui abbiamo deciso di trattare questo argomento analizzando le partite del Barcellona soprattutto nella seconda stagione c'è secondo me una gara in particolare che segna la svolta nella storia di Maradona e di Menotti a Barcellona perché ed è ancora una volta teatro la Coppa delle Coppe Maradona segna nella prima edizione della Coppa delle Coppe il Barcellona esce ai quarti di finale con un doppio pareggio con un gol interno quindi contro l'Austria-Vienna però nei turni precedenti Maradona segna uno dei gol più spettacolari una serpentina da centrocampo e pallonetto contro la Stella Rossa di Belgrado quindi ha già avuto modo insomma di farsi vedere in campo internazionale il Barcellona quindi esce con l'Austria-Vienna non riesce a riconfermare quello che era il titolo della stagione precedente però vincendo la Coppa del Rey si riguadagna il diritto a giocare la Coppa delle Coppe nella gara d'andata dei quarti di finale tra Barcellona e Manchester United tra l'altro nella stagione precedente poi la sconfitta del Barcellona contro l'Austria-Vienna nega quella che era una semifinale tutta spagnola con il Real Madrid Real Madrid che poi perderà la finale con la Berdini di Alex Ferguson nella seconda edizione a cui Maradona prende parte della Coppa delle Coppe il Barcellona incontra nei quarti di finale il Manchester United all'andata Diego non c'è il Barcellona vince 2-0 apre le marcatune un'autorete di Hog poi il Barcellona realizza il secondo gol e va abbastanza tranquillo a giocare a Old Trafford la qualificazione no però Maradona gioca l'andata ha giocato? si è stato sostituito nel secondo tempo ha giocato sia all'andata che al ritorno al ritorno lui gioca però abbastanza male parte subito dal calcio d'inizio che era molto motivato il Barcellona però praticamente si fa si fa gol da solo c'è una doppietta di Robson e l'altro gol di Stapleton che è quello decisivo l'irlandese Robson il secondo gol lo fa su una ribattuta corta di Ruti Coecea che è il portiere basco del 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 Barcellona tra l'altro sfortunato è morto a 48 anni in un in un incidente stradale proprio a Barcellona e il Barça prende prima un gol su calcio d'angolo classico gol all'inglese sulla sulla sponda e colpo di testa inserimento di Robson e poi c'è l'errore di di Ruti Coecea il terzo gol poi è una sempre una un'azione poi iniziata da Robson rifinita da da Wilkins e poi segna segna il gol decisivo Stapleton e Diego non combina granché in quella partita e anche il Barcellona di Menotti sembra piuttosto remissivo e l'unica l'unica giocata la la crea con un tocco d'esterno in mezzo all'area dove poi dalla sponda nasce il tiro a giro di Schuster che finisce di poco fuori e il Barcellona esce chiaramente dalla dalla coppa delle coppe quando poi aveva la possibilità comunque di di andare quantomeno in semifinale poi la Juve elimina il Manchester United e vince la coppa contro il Porto in finale Ritorno al discorso dell'andata dove Maradona giocò leggendo il libro di Jimmy Barnes non so se cosa hai letto secondo me io su Maradona ho letto solo il libro di Jimmy Barnes che che lo reputo un gran libro che è molto completo come è stato affrontato il tema con Maradona e proprio su questo su questa partita con il Manchester lui viene sostituito al minuto 71 Maradona credo che ha giocato quella partita è infiltrato quella che Baccellona vince 2 a 0 in casa e non fa una grossa prestazione però gioca viene gioca infiltrato perché c'è la caviglia in disordine ancora trascina un po' dell'ultimo precedente e quando viene sostituito viene fischiato per la scarsa prestazione e lì nel passaggio del libro praticamente dice che Maradona si arrabbia con il pubblico perché reputa il pubblico ingrato perché dice io guarda sto giocando infiltrato do il massimo e mi fischiano quindi quello fu anche un punto in pressione un altro punto in meno per Baccellona un altro punto in più per una possibile cessione si guarda ti ripeto per quanto mi riguarda ci sono i punti chiave sono la rottura con Nunes e il fatto che il Barcellona volesse liberarsene io ho rivalutato tantissimo quella che è l'esperienza di Maradona al Barcellona perché lui arriva in Spagna attraverso i mondiali dell'82 dove si fa espellere per un calcione a Batista e da lì diciamo che la la sua parabola è molto sfortunata ma è un grande Maradona era secondo me davvero il già il giocatore più forte del mondo il giocatore che noi vedremo a Napoli è un calciatore magari più intelligente più maturo più consapevole di sé ma anche molto più lento lui in realtà ammette di dover prendere le misure al campionato italiano esordisce nella partita contro il Verona che poi vincerà il campionato il Napoli perde 3 a 1 e il Napoli vince pochissimo pochissime partite soprattutto all'inizio della prima stagione di Diego che è l'84 85 e lui fa un'affermazione secondo me anche molto intelligente dice io non posso andare a 100 all'ora nel campionato italiano perché finisco per sbattere contro il muro dei difensori perché è un calcio molto più tattico rispetto a quello che si giocava in Spagna ed estremamente più tattico rispetto a quello che si giocava in Argentina d'altronde non posso andare neanche troppo lento perché altrimenti mi anticipano è una cosa che mi fa sorridere delle partite con l'Atletic Bilbao dove Maradona riesce a dare il meglio di sé però poi nella finale di Coppa del Rey lui non tocca palla perché a come la palla gli arriva gli arriva nei pressi o viene anticipato o semplicemente falciato quindi l'ordine che dà Clemente è quello di prendere o la palla o Maradona non cioè terzium non datur lui non deve assolutamente fronteggiare la porta quindi gioca a spalle alla porta ogni volta che riceve il pallone non riesce mai a girarsi non riesce mai a venirsi a prendere la palla perché in quella partita lui gioca praticamente centravanti sì quella finale perché lui gioca con falso nuove chiamiamolo come lui gioca praticamente perché è un 4-4-2 4-3 con il Barcellona in quella finale con Schuster Lobo Carrasco sì e Marco Salonso e Marco Salonso il terzetto davanti Maradona praticamente fa il perno centrale e infatti lo marca uomo Goi Gocea che di solito prendeva sempre il centro avanti e come hai detto tu lui gioca sempre spalle alla porta e come arrivano o c'è Goi Gocea o c'è il raddoppio di Andres che è il mediano con cui poi si prende a schiaffi durante la rissa però ecco fondamentalmente quello noi abbiamo anche le immagini di quel finale le vogliamo vedere direi che è il caso anche se forse le avranno viste tutti devo dire c'è una un paio di colpi di una specie di taekwondo che con con i tacchetti che fa Diego non proprio in grande stile ma la la ginocchiata abbatte quello dell'Atletico Bilbao insomma la ginocchiata di Tazza Micheli si lo butta giù quella è forte quella è un bello stile devo dire tra l'altro si becca tre mesi di squalifica ma passano un il calcione di Kloss si da questo giorno cioè dal momento della rissa all'acquisto del Napoli Sola che fu ecco eccolo qua non cominciano a cerchiare arriva giustamente prima con Drespo arriva Goicocea questo è il calcione di Goicocea si che giustamente non 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 perde occasione fortunatamente arriva Tazza Micheli e Kloss che rifinano quei calci volanti ecco sì poi vediamo si beccano tutti tre mesi di squalifica insomma modo abbastanza osceno di salutare di salutare la Spagna tra l'altro davanti al re Juan Carlos insomma è uscito da una gabbia di leoni con la maglietta esplanata però insomma è una è una partita che risente di tutto quello che c'è stato di quello che c'è stato prima Diego ha aspettato fino all'ultima partita per per prendersi la la vendetta su Goicocea non gliela non gliela mai perdonato era un calcio diverso il solo fatto che Goicocea fosse stato semplicemente ammonito scusa la dice lunga era un calcio dove comunque i grandi numeri dieci e gli attaccanti non venivano certo tutelati come oggi credo che oggi sia giusto così non fraintendermi non voglio dire che sia più facile giocare oggi credo che sia il calcio non è certo uno sport che ti fa camminare bene dopo che l'hai lasciato voglio dire questo è il nostro Andoni di cui stiamo parlando con lui c'ha addirittura c'ha le scappe in Bacheca l'ha conservata le scappe con cui come trofeo di come palmares diciamo come trofeo di una carriera c'ha le scappe con cui la faria Maradona curiosità non saranno contenti gli amici napoletani a casa beh sì Diego aveva fatto il suo tempo a Barcellona poi nel momento in cui Giuliano ottiene il sì di Nunes e Ferlaino finalmente vola vola a Barcellona il Barcellona poi entrambi passano una notte in albergo dove Nunes rilancia fino a 14 miliardi e mezzo dove poi si chiude Ferlaino riesce ad ottenere miracolosamente insomma il sì dalle banche napoletane la sera che Ferlaino prende Maradona è in questo hotel a 5 stelle lusso a Barcellona dove scende dalla reception si rega al bar e chiede un whisky forte insomma il cameriere gli porge il whisky e gli dice ah lei è Don Ferlaino il presidente del Napoli ha detto sì sì sono io abbiamo preso Maradona ha visto e lui dice guarda vi hanno fatto un pacco perché Maradona è rotto e creerà solo problemi e lui prende il whisky e gli resta in gola l'ingegner Corrado Ferlaino l'ha raccontata spesso questa cosa poi insomma rispetto a Nunez sarà più un padre per Diego però un padre che ha fatto i suoi interessi a proposito di Mina sì anche Ferlaino giustamente quando sei un presidente di una società devi avere certi compromessi non solo con i giocatori ma anche con l'ambiente di circostanze non è facile poi accettare che la tua stella faccia tutto quello che gli pare ovviamente secondo me Ferlaino ha agito più con il buon senso a livello bastone carota cioè molta carota poco bastone mentre Nunez ha agito più con bastone e carota poi alla fine ok anche con Ferlaino credo i rapporti per Maradona e Ferlaino non si sono lasciati in granché bene sì perché Diego voleva la cessione al Marsiglia Ferlaino prima gliela promette poi dopo la finale di Coppa UEFA gli dice io non ti posso vendere perché i napoletani mi ammazzano quindi poi diciamo la exit strategy di Maradona a Napoli era solamente da un punto di vista diciamo della squalifica per doping poi per ritornare al discorso spagnolo dopo Napoli Diego passa praticamente un anno un anno e mezzo e ricomincia a giocare poi nel Siviglia una stagione dove non è non è il Maradona che tutti conoscono ma mi ha fatto piacere l'applauso del del Camp Nou in Barcellona Siviglia 0 a 0 dove lui dopo nove anni ritorna ritorna a Barcellona e ritorna da da Maradona che ha vinto che ha vinto tutto quello che poteva vincere che comunque ha vinto gli scudetti con il Napoli ha vinto la Coppa UEFA ha vinto il Mondiale non è più il miglior giocatore del mondo ovviamente parente molto prossimo ad un anche perché è una fase quella di Maradona quando se ne va da Napoli poi c'ha praticamente c'ha quei 3-4 anni di sbandamento totale nel senso dovuti anche dovuti anche a USA 94 eh sì Diego è un ex giocatore sì però praticamente lui lui praticamente in quel periodo non sa che fare della sua carriera e la l'arrivo a Sevilla ci va perché c'è Bilardo praticamente Bilardo diceva vieni qua Sevilla da un punto di vista logistico è qualcosa più simile a Napoli di quello che potrebbe essere Barcellona perché una squadra di medio classifica perché l'epoca Sevilla adesso parliamo che fa sempre la Champions League arriva sempre nei primi 4-5 porti però all'epoca veniva la settima ottava senza grossa storia dietro città del sud città passionale quindi poteva essere diciamo perché Maradona fondamenta deve essere lui il donkey shot che guida la lotta ai mulini a vento a Barcellona ovviamente era come abbiamo detto prima non era la prima donna in senso assoluto il condottiero quello che è stato a Napoli o in Argentina a Sevilla l'avrebbe potuto esserlo quello che succede è che ovviamente Bilad fa diciamo carte false per averlo lì entra in gioco Blatter perché praticamente la trattativa Napoli e Sevilla la fa Blatter convoca insieme a Svizzera non so dove è stato l'incontro convoca il presidente di Sevilla e quello del Napoli e Ferlaino mette là e dice là che l'interesse di Blatter di far arriva a Maradona ha uso 94 perché fondamentalmente al mondiale gli Stati Uniti serve un Maradona e quindi lui fa in tutte le maniere si risolve perché se fosse stato per Ferlaino sarebbe rimasto inattivo Maradona tanto per perso sì 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 perché loro non si accordano no storia poco nota è che Diego dopo la squalifica sarebbe era ancora sotto contratto con il Napoli sarebbe dovuto rientrare a Napoli però diciamo che rispetto a quelle che sono le pretese di Maradona arriva anche a pretendere insomma un aereo privato per fare Napoli Buenos Aires o una volta una o due volte al mese come quando e come vuole lui pretende comunque un ingaggio con tutti i comfort diciamo fa in modo per cui Ferlaino questa volta insomma non possa non possa assolutamente accettare e qui poi entra in gioco Carlos Bilardo Narigone entra in gioco entra in gioco il Siviglia la stagione va va così così tra l'altro è un Siviglia che è anche un giovane Diego Pablo Simeone è anche già un ottimo un ottimo giocatore al tempo ecco queste con con le figlie con Dalma e Gianina sì all'inizio si fu un sacco di entusiasmo perché anche lui li ho presi in maniera abbastanza seria nel senso di rimettersi in gioco solamente che ripeto era una fase abbastanza complicata della vita di Maradona e anche lì i vizi non era poi fisicamente quello di Napoli né quello di Barcelona quindi magari ti faceva la giocata due tre a partita però e anche il contorno sì ok c'era Paolo Simeone c'era Suc c'entravanti però fondamentalmente rimaneva una squadra di metà classifica e poi lui vedi come le cose andavano male era in quella fase che bastava una piccola miccia qui vediamo per esempio che litiga con Villaggio c'è fu la sua ultima gara fu Burgos Sevilla fu sostituito con l'abito qua non so con chi litiga sì era una fase che poi ecco bastava poco per fargli accendere la miccia del nervosismo ha rivelato alcune perle in tre quattro partite sì sì ancora così gioco gioco un partitone poi vediamo quando era piccolo il Pelusa guarda è un un mezzo gradino sotto un mezzo gradino sotto all'ultimo Maradona di Napoli quello del 90-91 aveva aveva un fisico veramente ingrassato debilitato comunque da da anni di calci e di infiltrazioni e lui anche nell'82 gioca gioca infortunato con con l'Argentina e gioca abbastanza male insomma è un giocatore marcabile quando invece quel Maradona lì quegli anni lì non era marcabile quindi sì è vero c'è la leggenda di Gentile che riesce a marcarlo ma in realtà anche l'Argentina perde anche col Belgio da campione in carica lo picchiavano ancora non l'hanno mai smesso mi fa molto sorridere invece una a proposito di gente che picchia Maradona c'è questa questa leggenda dove ci sono gli argentini che vedono passare i giocatori della Nigeria che nella prima partita avevano strapassato la Bulgaria 3 a 0 li vedono passare davanti allo spogliatoio e vedono questi nigeriani sono tutti alti prestanti insomma classici luoghi comuni sui calciatori africani e sulle nazionali africane del tempo e Diego dice non vi preoccupate non vi preoccupate lasciate fare a me la Nigeria è già tutta schierata che sta per uscire dal tunnel degli spogliatoi per entrare in campo e Diego va avanti e aveva studiato tutti i calciatori nigeriani non so per quale motivo comunque era estremamente motivato in quel mondiale e va da ogni calciatore a stringergli la mano a chiamarlo per nome a dargli una pacca sulla spalla o sul sedere e i giocatori nigeriani impazziscono letteralmente questa cosa Maradona conosce il mio nome Maradona mi conosce e vogliono fare vogliono fare una foto con lui fanno la foto di squadra chiunque si fa promettere la maglietta alla fine della partita e nessuno tocca Maradona in campo Maradona fa due assi se l'agentina vince due a uno poi sarà l'ultima partita che fa Diego in nazionale perché quella immediatamente successiva era alla partita della Grecia dove lui segna poi la terza partita è quella con la Bulgaria dove lui è già squalificato perché alla fine della partita con la Nigeria insomma poi viene va all'antidoping insomma accompagnato dall'infermiera americana che tutti abbiamo visto però diciamo che lì si parlò molto di 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 Joao Vellange che non voleva insomma un 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 intralcio a quello che doveva essere una vittoria del del Brasile ai mondiali ormai Maradona era andato ai mondiali avevano venduto i biglietti che erano rimasti invenduti e che invece andavano venduti per salvare la faccia al al movimento della della FIFA e salvare la faccia al mondiale Maradona non serviva più e poi insomma lascio a chi ha letto la storia a chi conosce Diego qualunque giudizio sulla sulla questione Efedrina o sulla questione della 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 mi riallaccio al discorso Efedrina nel 1986 nella relazione spagnola Calderè fu trovato positivo per Efedrina sì e salta una giornata se non sbaglio non fu nemmeno squalificato non fu nemmeno squalificato ok no e fu multata la Spagna fu fatta una multa al dottore sì ecco otto anni dopo Efedrina squalificato vabbè questa diciamo è aperta e chiusa parentesi all'epoca all'epoca Calderè la colpa dell'Efedrina fu dovuta a una bronchite lui ha preso il bisolvon uno sciroppo contenente l'Efedrina quindi questo fu il motivo originale o quello che passa alla storia come il motivo per diciamo ma era una diciamo lui ha sonsefedrina per altri motivi sotto altre forme tra meno sciroppo per la bronchita perché stava facendo un programma con il dottor Cerini che l'aveva messo a regime dopo che lui l'aveva smesso con i New Soul Boys praticamente si era affidato alle mani di questo ex bodybuilder che diciamo più che medici cioè non era né medico né preparatore né niente era diciamo tra virgolette ciarlatano sì era un ex bodybuilder che c'era una palestra a Buenos Aires però aveva portato risultati perché Maradona è arrivato al mondiale a puntino per questo forma ok fisicamente a posto quindi era molto più in forma rispetto al 90 dove aveva un piede distrutta e la caviglia poi in disordine dove poi c'è tutta la leggenda di cui ho scritto pure un articolo recentemente del del topicio di Diego no poi che è stata ripresa anche dalla caviglia di messi la caviglia insanguinata della della Coppa America di messi nella semifinale contro la colombia e gli argentini tengono tantissimo a questo tipo di leggende loro hanno costruito la loro storia su calcistica su su dei miti intramontabili e e il mito della caviglia di Maradona Italia 90 è uno è uno di questi quindi poterlo riprendere in chiave vittoriosa nella Coppa America con Lionel Messi era ovviamente qualcosa di fantastico la stessa partita con l'Inghilterra che costruisce il mito fondante della della del nazionalismo sportivo argentino si rifà poi sulla sulla guerra della guerra persa delle delle folkland Malvinas che in realtà aveva era l'inizio della fine della dittatura dei in Argentina quindi piuttosto che vederla in accezione negativa poteva essere diciamo anche ripresa positivamente è ovvio che poi nel momento in cui ci sono dei morti diventano martiri della patria ma anche quella lì sarà strumentalizzata con il tempo perché all'epoca per esempio addirittura prima della gara uno cambiato di tema per esempio sia Bilardo che Maradona questa politica non ci interessa niente eccetera poi col tempo poi è uscita fuori la famosa giustizia per la mano per la mano di Dios allora diciamo è stata amplificata il tempo all'epoca fu una partita un quarto di finale di una partita perché la mano di Dios è il gol del siglo in una partita unica cioè una delle diciamo due delle più grosse giocate della storia mondiale in un'unica partita a distanza di un quarto dall'uno dall'altro un po' come Tamberi e Jacobs a pochi minuti di distanza e va buono niente non so se abbiamo ancora aggiungere qualcosa al tema altrimenti chiudiamo siamo quasi all'ora e mezzo stiamo suorando l'ora e mezzo dei progetti vuol dire che ci siamo divertiti anche stasera allora quello sempre è sempre un piacere fare chiacchie calcistiche al di là di quale è il tema che sia Maradona che sia Messi che sia allora ci lasciamo con un pronostico per Barcellona Athletic chi vince è una partita dura vedo perché comunque sia un banco di prova perché Barcellona ha vinto sì la prima però adesso c'è la trasferta il Samames torna a pienarsi dopo il covid sarà un fattore in più per l'Atletic secondo me è un pareggio secondo me di Marcellino non lascerà troppi spazi come già ha fatto in passato secondo me potrebbe essere un 1-1 Marcellino recupererà anche Raul Garcia che in queste partite contro Barcellona si salta sempre anche se ha 36-37 anni dovrebbe rentare anche Yerai in difesa non so se giocherà Unai Simone a cui era stato dato tipo una settimana di ferie dopo le Olimpiadi non so se rientra a lui dovrebbe rientrare però ecco vedo un buon banco di prova del Barcellona secondo me vedo un pareggio non so tu come se ne pensi allora io avrei optato anche io per un pareggio ma dico uno secondo me l'Atletic potrebbe sfruttare in questo caso il fattore campo però diciamo che io non ci prendo mai con i pronostici quindi invito gli amici a casa a giocare esattamente il contrario di quello che ho detto io va bene così allora ti ringrazio Luca Sisso della serata ringrazio i spettatori per chi ci ha seguito per chi non l'ha fatto ancora il live sarà poi sempre online sulla pagina di Storia del Calcio Spagnolo e da stasera anche in Youtube lo potete trovare quindi se non l'avete fatto stasera vi invito a seguirci perché sono una chiacchierata piacevole abbiamo parlato di questo inizio di Liga abbiamo parlato soprattutto del Barcellona e di Maradona dell'epoca di Maradona nella capital catalana e della sua parentesi a Sevilla quindi niente io vi ringrazio vi auguro un buon fine settimana e alla prossima edizione buonasera ciao ciao buon fine